Cori poi fa una buona giocata e regala il pallone a Manconi subito dopo Pietro Ungaro, salta Bellemo, può pensare anche alla conclusione da lì, serve invece Manconi col destro Manconi! Grande gol di Jacopo Manconi al Binolè F2, Como 0, quando i minuti sono 38 38esimo minuto della ripresa, Como 0, al Binolè F2, grande gol di Jacopo Manconi, un gioiello per l'ex Novara che segna il suo maestro Giacomo Gattuso e le giovanili dei piemoni